Gesù, povero e umile, hai offerto alla Tua Chiesa la Tua immagine del Cristo, concedi a noi di seguire il Tuo Figlio e la via del Vangelo e di unirci a Te in carità e legizia per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che Dio è diverente anche con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. I giorni cortificò il santuario, ai suoi venti fu scavato il deposto per le acque, un serbatoio ampio come il mare, premoloso di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro una sette. Come era il suo vento quando si aggirava fra il popolo, quando usciva dal santuario dietro il vero, come il nastro mattutino fra le nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come il soli esforzare così che gli impulsi nel tempio di Dio. Parola a Dio. Parola a Dio. Sì tu, Signore, la mia parte, mi è in grado, se non mi volo per te. Proteggi, mio Dio, in tempi e in futuro, ho detto a Dio, Signore, io, Signore, senza te non ho avuto me. Signore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.